Coach Paolo Galbiati, in questi giorni di attesa prima della ripresa del campionato, ovviamente facciamo un passo indietro e chiedo intanto cosa non ha funzionato nella gara di Coppa Italia compresa? Dieci minuti, i primi dieci minuti, dove eravamo bloccati da una grandissima voglia di fare, c'era una bella eccitazione nell'aria da giorni, da settimane ti dirò di più, forse era la prima volta per qualcuno a partite di questo tipo qua, le palle perse non hanno funzionato perché abbiamo preso questo grande parziale che è derivato da nostri palloni buttati, nemmeno persi, persi è diverso, buttati via e poi nel finale c'è mancata un pizzico di lucidità, un pizzico di fortuna perché poi se girano due fischi quello degli star replay che ognuno può pensarla come vuole, ci sono state rivedendo la giorno dopo, c'erano quindici immagini, secondo me nessuna c'era canestro, però così è un altro paio di situazioni, un filo sfortunato dove magari abbiamo avuto un pochino di fretta, di voglia di risolverla da soli, però ti ripeto dieci minuti, secondo me i primi dieci minuti sono stati sciagurati, ci hanno portato a giocare questa partita qua, speriamo serva di lezione, anzi siamo abbastanza convinti. Vi siete dati proprio una spiegazione del perché di questi dieci minuti? Lavoriamo con degli uomini, è rare umano, ogni tanto ci sta a viverla un po' troppo perché alla fine gli stessi giocatori che ci hanno portato ad essere felici molte sere, a divertirci quasi sempre, hanno giocato dei brutti dieci minuti, capita, poi un po' di nervosismo di troppo, fa parte del gioco. Coach, da inizio Gerone di ritorno, Varese ha abbassato sensibilmente la media dei canestri segnati, le chiedo se è legato solo alla stanchezza, al calendario magari che ha messo avversari forti davanti a Varese, o se ci sono altri fattori, se anche voi magari avete sicuramente visto questa statistica, la state provando ad analizzare in qualche altro modo? Abbiamo giocato contro una delle migliori difese d'Europa che è a Milano, Tortona che è in casa è super efficiente, Trento che è una delle migliori difese del campionato e Brescia che ha dimostrato di essere una delle migliori difese in Italia oggi, quello sicuramente, poi è chiaro che un pochino ci hanno preso le misure, quello è normale, come tutte le squadre durante l'anno provano a crescere, provano a togliere situazioni, poi faccio l'esempio, a Trento abbiamo sbagliato 13-17 tiri liberi, se ne segniamo 10, abbiamo 10 punti segnati in più in quella partita, cambia, abbiamo giocato con Milano sbagliando dei tiri aperti, tanti, no, a parte della normale andatura delle stagioni capitano momenti di up, momenti magari di down dei singoli, magari abbiamo avuto qualche partita dove i nostri marcatori principali hanno fatto un po' più fatica, sicuramente anche per me degli avversari, però non sempre giocheremo con Milano, non sempre giocheremo contro Trento, Tortona, Brescia, ci auguriamo, ci aspettiamo, non ci auguriamo, ci aspettiamo che tutti i torni non si dorghi vecchi. C'è una domanda, magari avrà anche avuto modo di leggerlo, di sentirlo in questi giorni da qualche parte, c'è un dubbio un po' su quella che è la nuova gestione, poi magari non è nuova, lei adesso mi smentisce, sul riscaldamento, abbiamo notato che Varese nelle ultime partite e entra in campo dopo i 20 minuti canonici che partono. C'è una spiegazione? C'è data lei adesso? No, capita che magari c'è due parole un po' più nello spogliatoio, vediamo un video prima di entrare, magari è leggermente più lungo, non fa testo la Coppa Italia perché c'è stato un 3 contro 3, dove non siamo stati avvisati, c'è stato, fa niente, non ci vuole tornare su quello, ho già speso troppo in caramelle antiacido, quindi lasciamo stare, no, quello no, poi già dipende, poi qualcuno ha i suoi riti, sull'ultima, io ho cacciato un urlo ma stavano finendo le vestizioni, quindi non c'è le sue scaramazie, quindi è giusto la sceglie di fare. Sende coach, come si riparte in vista di Napoli, che sarà già una trasferta comunque importante, sono ripresi gli allenamenti, come si arriva a questa partita? Abbiamo ripreso a lavorare, chiaramente con le assenze di Thomas e di Willy, che sono con la nazionale, quindi abbiamo ancora più bisogno di attingere ai ragazzi del settore giovanile che ci danno una mano per allenarci, stiamo recuperando Justin, abbiamo dato tre giorni di pausa, tre giorni e mezzo di pausa, che faranno sicuramente bene perché ne abbiamo bisogno di staccare un po', di non vederci, di cambiare aria per qualcuno, per qualche giorno, e niente, stiamo lavorando, adesso i primi giorni pensiamo a noi e poi piano piano iniziamo la fase di preparazione della partita di Napoli, che è sicuramente una partita complessa, prendiamo Napoli ogni volta, la seconda volta cerchiamo con dei cambiamenti, aggiungono un giocatore molto forte, però noi ne abbiamo parlato, vogliamo finire la stagione bene, come abbiamo iniziato, se non meglio, quindi c'è molta voglia, c'è attenzione e grande eccitazione per il final di stagione, perché siamo tutti consapevoli che è importante per i giocatori, per la piazza, per la società, per tutti quanti, quindi c'è grande voglia. Ecco, qua ce l'ha citato Justin Reyes, come sta nelle ultime partite, tolta proprio la gara con Napoli, è sembrato in difficoltà normale dopo un'operazione del genere, come sta oggi? Un po' meglio, sta continuando a lavorare, purtroppo l'incorso è stato serio, perché il menisco si è spezzato ai più punti, continua a gonfiare il ginocchio, adesso sta finendo i trattamenti per riprendere, ad allenarsi al 100%, poi quando saremo tutti da settimana prossima dovrebbe avere l'ok per potersi allenare per tutta la settimana, sperando che non li gonfiggino, però meglio, ha grande voglia lui di, perdonami si interrotto, ha grande voglia, anche oggi scaccia, scalpitava quando gli abbiamo detto ok è finito, quindi lo aspettiamo con ansia. Ultima domanda coach, proverete a cambiare qualcosa a livello tattico, di gestione di alcuni momenti della partita verso Napoli, più in generale verso poi la ripresa del campionato, o si continua sulla strada maestra. Lo vedrete. Grazie mille. A te.